...o presunto profugo, terrorista, legato al terrorista, affiliato al terrorista, al terrorismo che fa jihadismo, che fa radicalismo, che fa proselitismo, che si fa esplodere e crea danni. Quindi il problema qual è? Il problema è legato alla cattiva gestione della politica dell'immigrazione. Quella foto lì, quella foto lì, è la cartina al tornasole delle politiche buoniste, delle politiche filmigrazioniste, delle politiche filo-islamiche. Io ricordo a migliore che dal 2014 ad oggi sono sbarcati, anzi direi siamo andati a prendere sulle coste libiche con le navi della marina militare, in qualunque paese normale la marina militare difende confini e frontiere. Noi abbiamo utilizzato le navi della marina militare per andare sulle coste libiche a prendere i presunti profughi potenziali clandestini e li abbiamo portati sul nostro territorio. Sai quanta gente è morta nel Mediterraneo in questi anni? Troppe, proprio perché troppe, perché guarda, ti dico i numeri perché l'anno scorso sono morte 3500 persone e quest'anno sono morte 1200. Vuol dire che quella politica lì dell'accoglienza, finalizzata l'accoglienza, non funziona.